Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, ha informato che nella giornata di domenica 26 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.294 test per l'infezione da coronavirus e sono risultati positivi 36 casi, di cui 8 nella provincia di Foggia, 5 decessi in Capitanata e 986 contagiati in totale. A Lucera non ci sono nuovi contagi, ma si attendono gli esiti di altri tamponi effettuati in questi giorni. Il Rotary Club di Lucera, presieduto dall'avvocato Luigi Vascello, in questo periodo di emergenza ha mobilitato e orientato le proprie energie nella lotta contro il coronavirus, attuando due service Covid-19 consistenti nella donazione di mille mascherine chirurgiche all'ospedale Lastaria di Lucera e di 2.000 euro di buoni spesa alla Caritas di Lucera destinati ai cittadini in gravi difficoltà economiche per l'acquisizione dei prodotti freschi alimentari di consumo giornaliero.